ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a vedere questo freddy krueger da nightmare non elm street parte 3 dream warriors ovviamente e questa figure fa parte della linea prodotta dalla neca e real toys ovviamente retro cloth praticamente sono delle figure principalmente tratte da film horror quelle che ho trovato che sono fatte in stile migo quindi appunto sugli 8 pollici con abiti in stoffa e con delle fattezze un po strane soprattutto nelle dimensioni adesso vi farò vedere e praticamente con ogni figure viene data una immagine appunto per esporre la figure guardate qui perché praticamente abbiamo un box in plastica che veramente orribile che nell'aprirlo si distrugge però dietro a questa immagine che invece si può mantenere davvero bella anche solamente da utilizzare come sfondo per le figure qui dietro invece abbiamo la descrizione della figure come potete vedere già dall'immagine lì questo freddy alla chicca dei demoni sulla pancia che comunque è removibile poi vi faccio vedere allora togliamo quindi l'immagine come vedete molto figa ve la faccio rivedere un attimo guardate qui da vicino davvero bella anche da esporre e adesso andiamo a vedere il nostro freddy innanzitutto i suoi accessori abbiamo il suo classico fedora in plastica rigida però fatto bene comunque niente da dire e poi come accessorio abbiamo appunto il suo pezzo di corpo con i volti delle anime che cercano di uscire è un pezzo a parte che sono andato io ad incastrare perché viene quando esce dalla confezione appunto non è già inserito sul corpo di freddy ma con un po di fatica si deve andare ad inserire diciamo che sarebbe più semplice se si togliesse appunto il maglione la testa e tutto andare ad incastrarlo io l'ho fatto senza toglierlo e quindi ho fatto magari un pochettino più di fatica e infatti adesso che l'ho messo sotto ce lo lascio anche perché altrimenti freddy questo freddy risultava proprio magrissimo invece con questo pezzo sotto non è poi così male direi però di avvicinarci un attimo il nostro freddy così vi posso far vedere qualche dettaglio in più innanzitutto la base non è inclusa e anzi non c'è neanche il foro per inserirla inizialmente ho dovuto andare a forare io la scarpa che comunque in plastica non troppo dura con un mini trapano praticamente facendo quel piccolo foro è poi possibile utilizzare una base neca per poterlo reggere guardate poi i dettagli qui intanto sui vestiti questo qui non si vede bene forse dalla foto ma non è proprio nero nero ci sono delle sporcature che fanno appunto sembrare questi pantaloni ecco così si vede meglio questi pantaloni come se fossero sporchi utilizzati e secondo me è una gran bella chicca poi abbiamo il maglione ovviamente in stoffa come da tradizione di questa linea retroclot abbiamo anche comunque le mani che hanno ottimi dettagli di painting il guanto anche è eccezionale guardate anche all'interno tutto dipinto molto bene anche la parte qui esterna non c'è niente da dire su quello e un piccolo difetto se possiamo trovarlo sono gli occhi di freddi che se non l'ho acquistato dal vivo potrebbero avere qualche problema infatti io sono proprio andato cioè quando l'ho acquistato avevo visto proprio dal vivo come erano stati fatti gli occhi perché queste avevano serissimi problemi magari di strabismo oppure proprio un occhio più grande uno più piccolo ho cercato di trovare invece la via di mezzo migliore è una linea molto carina comunque abbastanza simpatici da avere in collezione queste figure di questa linea ma sicuramente non si adattano con le ultimate o comunque le classiche figure neca che risultano più piccole e comunque in uno stile completamente diverso quindi diciamo che sono per un tipo di collezione diversa messi vicino non stanno un gran che bene a meno che appunto vogliate sporre in due poi a parti diversi questi freddi rispetto alle altre allora ci può stare tranquillamente hanno anche delle articolazioni abbastanza buono la testa può andare in alto in basso può guardare lateralmente piegarsi ruotare completamente a 360 gradi qui al braccio si può alzare ovviamente però sta malissimo perché con il pezzo che ho aggiunto si crea questo gap può rotare a 360 gradi ma non lo faccio perché avendo il vestito in stoffa altrimenti si rovina c'è un piegamento qui al gomito abbiamo la rotazione al gomito piegamento qui alla mano e rotazione alla mano alla vita non abbiamo articolazioni purtroppo non so se per colpa del pezzo che ho aggiunto che va a bloccare ma anche prima non si muoveva nulla le gambe possono andare avanti molto poco c'è un piegamento qui al ginocchio e qui al piede come potete vedere può andare solamente avanti e indietro e senza basetta è difficilissimo farle reggere quindi quello può essere un po' un problema se volete esporre le vostre figure senza basetta ecco una cosa di qualità abbastanza scarsa non so se magari perché la mia almeno questa potrebbe essere magari colpa della vecchia versione i pezzi del maglione proprio si sfilano tranquillamente guardate qua quel punto qui comunque ho rimesso questo maglione proprio per fare la recensione perché in realtà io utilizzavo quello di un'altra di queste retro cloth che aveva appunto due outfit e quindi la possibilità di switchare il maglione su questa comunque non è una brutta figure i prezzi non sono neanche troppo alti vediamo di inquadrarlo bene per avere comunque abiti in stoffa e tutto hanno ottimi prezzi devono uscirne anche nuove di questa linea da quello che ho visto adesso dovrebbe uscire il freddy chef da nightmare 5 e se vi dovessero interessare dovesse riuscire ancora a recuperarle tranquillamente su ebay questa sicuramente si trova anche quella appena uscita con freddy chef sicuramente si troverà le altre non saprei dirvi fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ad un prossimo video e ciao a tutti